Gentili telespettatori, buona giornata. Tutti contro Salvini, nel governo a nessuno piace la pace fiscale proposta da Salvini. Pace fiscale si intende un condono. Dice così Salvini se qualcuno ha un problema fino a 30.000 euro che si trascina da anni, chiudiamolo. Gli ne chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto, dice Matteo Salvini. Ci sono state diverse reazioni tra i colleghi ministri, tra il numero due della Lega Giorgetti, ministro dell'economia, il viceministro dell'economia Leo di Fratelli d'Italia e altri ministri che non sono per nulla d'accordo. Ad esempio il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che dice che il ministro Salvini ha espresso solamente il suo pensiero. Zangrillo ha poi ricordato come la rottamazione quarta sia un provvedimento che anticipa la riforma del sistema sanzionatorio. Sul tema anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ovviamente uomo di centrodestra, dice che il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. Chiedere di pagare le tasse non è perseguitare. Dice al convegno facciamo l'Italia semplice, è un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che e sono la stragrande maggioranza le tasse anno dopo anno le pagano, ha aggiunto. E quanti sono quelli che devono pagare multe o cose varie fino a 30.000 euro? Sono ben 15 milioni di italiani. Quindi non proprio pochi, anzi sono il 97% dei contribuenti hanno pendenze con l'erario, anche se la maggior parte dell'evasione accertata viene dal 3% con i debiti più più elevanti. Quindi il 97% di chi paga le tasse ha problemi con il fisco. Dicendo che la stragrande maggioranza degli italiani paga le tasse, in realtà quelli che non hanno problemi col fisco sono il 3%, il 97% ha problemi con il fisco e sono oltre 15 milioni di italiani che hanno appunto delle pendenze. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere che c'è un condono appena scaduto e le adesioni hanno raggiunto un totale di quasi 4 milioni di italiani che avevano pendenze col fisco. Il termine per presentare le domande poi è scaduto, tranne che per i residenti dei comuni colpiti dall'alluvione. Poi vediamo che la sanatoria per i debiti col fisco è stata disegnata per recuperare una parte del non pagato in vista di una riforma che porti le sanzioni sui ritardi di versamento e i versamenti mancati in linea con le medie europee, circa il 60% dell'imposto dovuto. Secondo i dati delle entrate la misura ha comportato l'eliminazione di sanzioni e interessi fino a 20 miliardi e produrrà un gettito superiore ai 12,4 stimati. Si tratta però di una parte dei crediti esigibili che ammontano oggi a circa 110 miliardi di euro. Quest'ultima rottamazione ha riguardato circa 60 miliardi. Qual è la proposta di Matteo Salvini? Lui propone debiti con il fisco fino a 30 mila euro. Salvini sembra riferirsi a una sorta di condono fiscale che ha zeri debiti di chi non ha pagato. L'ultimo intervento di questo tipo risale al 1982 con il governo Spadolini. L'allora ministro Rino Formica riuscì a incassare la cifra eccezionale per l'epoca di 11 mila miliardi di lire. Il problema della proposta Salvini è in ogni caso il costo sotto la soglia dei 30 mila euro. Si collocano 15 milioni di italiani. Non proprio pochi. La prima rottamazione è stata nel 2016 ed era rivolta a un milione e mezzo di italiani. Doveva portare a casa 17,7 miliardi ma ne sono entrati 8,2. Poi nel 2017 riguardava 800 mila cittadini dovevano arrivare a 8,5 miliardi e ne sono arrivati 3. Nel 2018 1,4 milioni di contribuenti con un incasso di 26,3 miliardi ma ne sono arrivati 8,6. La versione nuova, quella del 2023, ha avuto molto più interesse. La rottamazione 4 era più conveniente permettendo di spalmare le rate del debito su un tempo più lungo. E così al 30 giugno ci sono stati il doppio delle adesioni che si immaginava. Quindi 4 milioni di richieste di adesione. Se ne pensava due, ce ne sono stati 4 milioni. Bisogna vedere poi chi pagherà le rate perché tu puoi oggi rateizzare e poi non pagare le rate. E quindi lì rimane l'insoluto però comincia un nuovo procedimento dove tu non paghi. Quindi può essere che una parte delle persone non pagheranno mai le rate. A ottobre e novembre scadono le prime due rate, ciascuna delle quali è pari al 10% dell'importo definito. L'annuncio di un condono che oltre alla buono di sanzioni interessi proverebbe anche la cancellazione di una parte del debito. Di sicuro non aiuta la gran parte dei contribuenti infedeli e strutturalmente recidiva. Nel senso che tu metti mille rate e non ti pago nessuna rata. Più di 7 milioni di italiani, tanto per avere un'idea, ogni anno ricevono almeno una cartella esattoriale per debiti pregressi non pagati. Fino adesso il fisco non ha fatto granché contro quelli che non hanno pagato qualcosa. Gli italiani devono al fisco una cifra mostruosa che alla fine dell'anno scorso era pari a 1153 miliardi di euro. Diciamo a grandi linee la metà del PIL che si fa ogni anno. Questo è il carico residuo contabile. Se tutti dovessero pagare questi 1153 miliardi, lo Stato, l'Italia potrebbe intanto quasi estinguere il debito pubblico. Quasi. Potrebbe estinguere un 70-80% del debito pubblico. Con tutti quei soldi potresti ridurre le tasse da qui e per vent'anni ridurre le tasse di tantissimo. Insomma è una cifra terribile. Grazie a tutti e arrivederci a presto.